Il ricordo, le passioni amorose, il viaggio spazio-temporale, le emozioni profonde. Tornano nell'ultimo lavoro letterario di Mariolina Venezia, Da dove viene il vento, presentato a Monopoli, i temi della prima opera dell'autrice, Mille anni che sto qui, premio Campiello 2007. Ma attenzione, quello era un romanzo di formazione, questo no. Racconto tante storie, storie di persone che hanno lasciato il loro luogo d'origine e che si trovano in avventure, avventure interiori. Dall'astronauta rimasto qualche anno nello spazio, liberamente ispirato alla vicenda del cosmonauta russo, rimasto in orbita fra il 91 e il 92, mentre l'Unione Sovietica smetteva di esistere, alle storie incrociate di Dora e Salvatore, a Cristoforo Colombo, al migrante Berbero Idir, Da dove viene il vento, si muove nei secoli e negli spazi. Il tema della migrazione travalica è il fine della ricerca di un lavoro per assurgere a quello di un paradigma, di un viaggio attraverso le emozioni e i luoghi. Si diventa incapaci di dialogare con gli altri, ci si arrocca sulle proprie posizioni, sulla propria identità. E l'amore, la passione amorosa è un viaggio dall'interno all'esterno. I destini dei protagonisti si annodano, si snodano e poi si intrecciano, in una storia che può sembrare disunita, invece non lo è affatto. È una specie di libro di educazione sentimentale, un modo di avere a che fare con i sentimenti che possono bruciarci, però possono anche essere una grande forza vitale.